Nelle prossime settimane il decreto legislativo su sostegno e inclusione, il numero 66 del 2017, sarà modificato per poter finalmente entrare in vigore con l'avvio del prossimo anno scolastico. Le modifiche sono già state approvate in via preliminare il 20 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri e sia il ministro Bussetti sia il sottosegretario Salvatore Giuliano, hanno parlato di una svolta copernicana. Si tratta, ha detto Giuliano, di norme che rafforzano e valorizzano la partecipazione attiva delle famiglie e degli studenti stessi e noi vogliamo sottolineare il concetto di corresponsabilità educativa per valorizzare e dare centralità al ruolo della comunità scolastica. Ma che cosa cambia nel concreto? Una prima modifica importante riguarda le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro operativo, composto, dice la bozza del decreto, dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori dell'alunno e delle figure professionali coinvolte nel progetto di inclusione. Sarà infatti questo gruppo di lavoro non solo a formulare la proposta del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe ma anche a predisporre il piano degli interventi per garantire la realizzazione del progetto. Un'altra modifica riguarda poi l'articolo 14 del decreto 66, quello che prevede la possibilità per le famiglie di chiedere la conferma del docente di sostegno con incarico a tempo determinato assegnato alla classe. La norma resta ma viene precisato che questa opportunità è riservata soltanto ai docenti con titolo di specializzazione. Nella precedente versione le ore di sostegno venivano autorizzate dal GIT, cioè il gruppo territoriale per l'inclusione, ed è proprio questo aspetto che aveva provocato molte proteste anche delle associazioni professionali dei docenti e delle famiglie stesse. Nel nuovo decreto il gruppo territoriale resta in piedi ma soltanto con funzioni consultive. Resta però fermo il fatto per la verità che la procedura di assegnazione dei posti sarà portata a termine dagli uffici scolastici regionali che attribuiranno le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia. Ed è su questo che si stanno già concentrando le prime critiche, come quella dei partigiani della scuola pubblica che ricordano che Corte Costituzionale e Tarlazio hanno già sottolineato che i posti di sostegno vanno assegnati sulla base delle effettive esigenze senza dover rispettare vincoli di spesa. La bozza poi, per concludere, conferma che i docenti titolari su posto comune, purché in possesso del titolo, potranno svolgere una parte del proprio orario per attività di sostegno. Adesso la bozza di decreto dovrà passare dalle commissioni parlamentari, non dall'aula, per il parere e le eventuali ulteriori modifiche. Quindi sarà approvata in via definitiva dal governo. Se non ci saranno intoppi potrà entrare in vigore a partire dal primo di settembre prossimo. Di questo argomento noi continueremo ad occuparci, seguiremo anche i lavori parlamentari e ve ne daremo notizia. Quindi continuate a seguirci su questo canale, scriveteci, mandateci le vostre opinioni e seguiteci sul nostro sito grazie a tutti. Grazie a tutti.